Mi è capitato più volte di osservare che i grandi poeti e più in generale i grandi artisti sono forse quelli che hanno la strana capacità di tenere assieme nei loro testi il piccolo e il grande, la piccola storia individuale e la grande storia dell'umanità, l'episodio occasionale e il senso profondo delle cose. E quello che avviene, a mio avviso, nella poesia che leggeremo nel video di quest'oggi, cioè La bufera, poesia composta da Eugenio Montale nel 1941, poesia che apre, che inaugura La bufera e altro, pubblicata nel 1956 come terza grande opera poetica di Eugenio Montale. Leggiamo insieme il testo, poi con molta calma lo commenteremo. La bufera che sgronda sulle foglie dure della magnolia, i lunghi tuoni marzolini e la grandine, i suoni di cristallo nel tuo nido notturno ti sorprendono, dell'oro che s'è spento sui mogani. Sul taglio dei libri rilegati brucia ancora una grana di zucchero nel guscio delle tue palpebre. Il lampo che candisce alberi e muri, e li sorprende in quella eternità distante, marmo, manna e distruzione, che entro te scolpita porti per tua condanna, e che ti lega più che l'amore a me, strana sorella. E poi lo schiantorude, i sistri, il fremere dei tamborelli sulla fossa fuia, lo scalpicciare del fandango, e sopra qualche gesto che annaspa, come quando ti rivolgesti e con la mano sgombra la fronte dalla nube dei capelli, mi salutasti per entrar nel buio. Poesia complessa, difficile quella di oggi, questa bella poesia di Eugenio Montale. Siamo aiutati però da un elemento prezioso, che risale al 29 novembre del 1965, cioè una lettera, una breve lettera scritta dallo stesso Montale a Silvio Guarnieri, nella quale è l'autore stesso a fornirci alcune indicazioni per un commento corretto del testo. Dunque in alcuni punti della rilettura di questa poesia farò riferimento proprio a questa lettera, per riportarvi le parole di commento di Eugenio Montale, dell'autore in persona. Ripercorriamo il testo innanzitutto a partire dai primissimi versi, che dicono così. La bufera che sgronda sulle foglie dure della magnolia i lunghi tuoni marzolini e la grandine. Avrete notato che in questa prima parte, in questa prima stanza della poesia, non c'è un vero e proprio verbo principale, e la stessa cosa capiterà in seguito in molte altre strofe che leggeremo. Infatti gran parte di questa poesia è una sorta di interminabile elenco di accumulazioni di dettagli apparentemente diversi, ma che vanno tutti nella direzione del titolo della poesia. Infatti Montale sta raccontando, sta descrivendo una bufera. Vediamo in quali termini. la bufera che sgronda, verbo molto raro, sgrondare, qui utilizzato in modo transitivo. La bufera che sgronda, cioè che rovescia, dove? Sulle foglie dure della magnolia. Che cosa rovescia? rovescia i lunghi tuoni marzolini e la grandine. Siamo di fronte ad una bufera primaverile, con tuoni e una forte grandinata. Questo è ciò che c'è scritto alla lettera, nella poesia, ma Montale stesso, nella lettera di cui vi dicevo prima, dice così. La bufera è la guerra, in specie quella guerra dopo quella dittatura. Ecco la chiave interpretativa del testo. Si sta raccontando la seconda guerra mondiale attraverso la metafora di una bufera che ha travolto il mondo, con i suoi tuoni e con la sua pericolosissima grandine. Poi un inciso molto lungo, dal verso 4 in avanti fino al verso 9. Osservate le due parentesi tonde all'inizio e alla fine della seconda strofa. Ve la rileggo. I suoni di cristallo nel tuo nido notturno ti sorprendono. Dell'oro che si è spento sui mogani, sul taglio dei libri rilegati, brucia ancora una grana di zucchero nel guscio delle tue palpebre. Di nuovo un periodo, una frase molto lunga, complessa, messa in questo caso fra parentesi. Importante capire perché al verso 4 compaia l'aggettivo possessivo tuo. Chi è il tu poetico, il tu lirico di questo testo di Montale? E Clizia, Irma Brandeis, la donna molto amata da Eugenio Montale nel corso degli anni 30 e ormai, siamo nel 1941, rientrata negli Stati Uniti, dunque lontanissima dal poeta, lontana dall'Europa e dall'Italia. È come se questa bufera, se questa violenta grandinata, venisse per un istante notata a migliaia di chilometri di distanza anche dalla donna amata del poeta, che viene destata dal sonno, viene svegliata di notte mentre sta dormendo dalla violenza della grandine. Il poeta lo dice così. Ti sorprendono, Oclizia, nel tuo nido notturno, durante la notte, nella tua casa, quasi nel tuo nascondiglio, i suoni di cristallo, cioè il tintinio come di cristallo dei chicchi della grandine. E poi una parte molto complessa, ma partiamo dal fondo. Nel guscio delle tue palpebre, c'è all'interno dei tuoi occhi, brucia ancora, cioè è ancora accesa, che cosa? Una grana di zucchero. Letteralmente come un granello di zucchero, dunque qualcosa di dolce, di molto bello, ma un granello di zucchero di che cosa? Di quell'oro, riga 5, che si è spento. C'è della luce del tramonto che si è spenta dove? Sui legni di mogano, sui legni preziosi dei tuoi mobili, della tua casa, e sul taglio dei libri rilegati, e sui bellissimi libri che hai in casa, nella tua biblioteca personale. E' comunque la descrizione di una scena completamente diversa da quella della prima strofa. Nella prima strofa siamo in Europa, dove sta da anni infuriando la seconda guerra mondiale. Nella seconda strofa viene descritto l'eco di questa guerra in lontananza, dove si trova in questo momento Clizia, negli Stati Uniti, ed è come se lei di notte all'improvviso sentisse il rumore delle bombe che stanno scoppiando, attraverso la metafora del rumore dei chicchi della grandine. Notate i termini belli, positivi, riferiti al mondo di lei. Cristallo, mogani, libri, zucchero. E' un mondo di dolcezza, di raffinatezza, di cultura, di splendore. E' un mondo contrapposto a quello della violenza europea, dove ci sono la bufera, i tuoni, la grandine, e poi come vedremo il lampo e altri termini negativi. L'elencazione di cui parlavamo prima riprende e prosegue nella terza strofa che andiamo a rileggere dal verso dieci in poi. Il lampo che candisce alberi e muri e li sorprende in quella eternità distante marmo, manna e distruzione, che entro te scolpita porti per tua condanna e che ti lega più che l'amore a me, strana sorella. Prima abbiamo parlato di una bufera, di tuoni, di grandine, ora incontriamo un lampo. Il lampo che, di nuovo un verbo preziosissimo, raro, candisce, che colora di bianco, che tinge di bianco alberi e muri. Possiamo immaginare che questo lampo sia quello dell'esplosione di una bomba, di un ordigno bellico, e dunque il lampo illumina per una frazione di secondo di bianco di luce tutto ciò che va a distruggere, alberi, muri, e li sorprende, quasi li coglie, li raffigura come il flash di una macchina fotografica in quella eternità distante. Qui addirittura un ossimoro, eternità, un tempo che non finirà mai, contrapposto all'istante, il tempo più breve che ci sia. È come una sorta di epifania della verità. Per un istante questo lampo rende evidente la realtà profonda, l'essenza delle cose. Poi un inciso davvero particolare, tutto nominale, marmo, manna e distruzione. Qui il commento diventerebbe complicato, difficile, ma ci salva Montale stesso nella sua famosa lettera, dove dice letteralmente così marmo, manna e distruzione sono le componenti di un carattere, se tu le spieghi ammazzi la poesia. Siccome non voglio essere accusato di omicidio, non commenterò queste parole, sono probabilmente un riferimento al carattere, per l'appunto di Clizia. Che entro te scolpita porti per tua condanna, e che ti lega più che l'amore a me, strana sorella. Qui abbiamo proprio una curiosa espressione alla fine del verso 15, strana sorella. Un'altra espressione particolare, in primo luogo sembrerebbe quasi negativa, più che l'amore. Cerchiamo di capire il senso di questi versi così complessi, 13, 14 e 15 nel testo. Che cos'è che lega, letteralmente, riga 14, Montale e Clizia, che viene definita strana sorella del poeta? Qualcosa che va al di là dell'amore, dell'attrazione fisica o anche mentale fra due persone? Una sorta di sintonia caratteriale, di similitudine di destini. Ed è come la sua condanna, non soltanto di Clizia, ma anche di Montale stesso. È qualcosa che entrambi portano scolpito dentro di sé come una punizione. È forse proprio questa capacità quasi magica, misterica, di cogliere l'eternità distante, il senso delle cose di cui abbiamo parlato prima, per il verso 12. Dunque la loro relazione va al di là dell'attrazione fisico-mentale. È qualcosa che va più che l'amore, dice il poeta. È una sorta di fratellanza spirituale, strana sorella, riga 15. E poi, riga 16, con la terza e ultima strofa, la descrizione e l'elencazione di cui parlavamo prima riprende continua con queste parole. E poi lo schiantorude, i sistri, il fremere dei tamburelli sulla fossa fuia, lo scalpicciare del fandango, e sopra qualche gesto che annaspa. Come quando ti rivolgesti e con la mano sgombra la fronte dalla nube dei capelli, mi salutasti per entrare nel buio. Rileggiamo un istante da riga 16. Osservate l'elencazione sempre più insistita. E poi lo schiantorude, come uno scoppio, una devastazione finale. È come se dopo il tuono e il lampo di prima arrivasse lo scoppio di queste bombe della guerra. Uno schiantorude. E poi una sequenza quasi infinita di allitterazioni, di figura retoriche di suono. Sistri, fremere, sulla fossa fuia, scalpicciare, fandango, sopra, gesto, annaspa. Tutto diventa suono, suono fastidioso come il rumore di una bomba che sta esplodendo e di edifici che stanno crollando. Un insieme di oggetti quasi eterogenei. I sistri, strumento musicale egizio antico che rimanda anche al culto dei morti. Il fremere dei tamburelli, e notate l'espressione che è dantesca, sulla fossa fuia. Come su una fossa, su un baratro, su un burrone, che viene definito fuia, letteralmente ladro, perché ruba la vita alle persone. È come se il mondo, l'Europa, fosse diventato l'inferno sulla terra. È come se l'Europa venisse inghiottita dalla morte durante la seconda guerra mondiale. E si avverte come lo scalpicciare di una musica quasi fastidiosa, lo scalpicciare del fandango, e sopra qualche gesto che annaspa, qualcuno che fa dei gesti per cercare di salvarsi, di uscire da questa fossa fuia, per non essere inghiottito dall'abisso della morte. E poi, in realtà, non la penultima strofa, ma la seconda parte di questa strofa ampia, righe 19, 20 e 21, notta il gradino proprio metrico, come quando ti rivolgesti e con una mano, sgombra la fronte dalla nube dei capelli, e poi l'ultima vera strofa, brevissima, un verso isolato, mi salutasti per entrare nel buio. Dicevamo all'inizio della lettura e del commento che in questo testo paiono stare insieme, convivere il grande e il piccolo, la grande storia e la piccola storia, la storia dell'Europa, della guerra, della seconda guerra mondiale, e la storia personale, anche d'amore, di Eugenio Montale. Osservate qui lo stacco, a riga 19, evidente anche a livello grafico, nel testo della poesia. Come quando, quella volta, anni fa, tempo fa, tu, Oclizia, Irma Brandeis, ti rivolgesti, ti sei voltata verso di me, e con la mano mi salutasti, e mi hai salutato per l'ultima volta, mi hai dato l'addio con la tua mano, dopo aver tolto la nube dei capelli dalla tua fronte, per entrare nel buio, cioè per scomparire per sempre. In fondo è come se questa bellissima e particolarissima poesia di Montale non fosse nient'altro che una sorta di stralunata similitudine, fra il grande e il piccolo, fra un episodio della storia del mondo, la seconda guerra mondiale, che trascina nel buio della fossa fuia della morte l'umanità, e dall'altro lato una situazione capitata qualche anno prima, verso la fine degli anni trenta, al poeta stesso a Montale, che ha visto entrare nel buio della distanza, della separazione, della lontananza, della fuga, la sua amata Clizia, che fugge negli Stati uniti verso la fine degli anni trenta, e lascia lui stesso nel buio della solitudine e della disperazione. Come quando ti rivolgesti e con la mano, sgombra la fronte della nube dei capelli, mi salutasti per entrare nel buio. All'interno della bufera e altro, Clizia ha un ruolo salvifico, è stata paragonata alla donna angelo del dolce stil novo. E' come però se questo angelo stesse fuggendo via, quando appunto alla fine degli anni trenta lascia Montale per mettersi in salvo negli Stati Uniti, ed è lui ad entrare nel buio della solitudine e della lontananza dalla donna amata, che verrà trasfigurata in questa figura di donna angelo, di visiting angel, come dirà il poeta stesso, che ricomparirà nella sua memoria di tanto in tanto negli anni successivi. La bufera che sgronda sulle foglie dure della magnolia, i lunghi tuoni marzolini e la grandine, i suoni di cristallo nel tuo nido notturno ti sorprendono, dell'oro che s'è spento sui mogani sul taglio dei libri rilegati, brucia ancora una grana di zucchero nel guscio delle tue palpebre. Il lampo che candisce alberi e muri e li sorprendi in quella eternità distante, marmo, manna e distruzione, che entro te scolpita porti per tua condanna, e che ti lega più che l'amore a me, strana sorella, e poi lo schiantorude, i sistri, il fremere dei tamburelli sulla fossa fuia, lo scalpicciare del fandango, e sopra qualche gesto che annaspa, come quando ti rivolgesti, e con la mano, sgombra la fronte dalla nube dei capelli, mi salutasti per entrar nel buio.